Oggi qui a Treia, al seminario Soft Economy di Simbola, abbiamo portato la testimonianza di tante imprese che sono riuscite a fare il salto attraverso il digitale, che non è un salto nel vuoto, è un salto che ha tanta consapevolezza dei vantaggi che il web può portare alle nostre imprese di piccole e piccolissime dimensioni. Il problema oggi non è soltanto quello delle infrastrutture telematiche della banda larga, è vero che ci sono circa 2 milioni di italiani che sono non serviti dalla banda larga, ma il problema è anche di tipo culturale, ovvero imprese che non riescono ancora a comprendere quanto la rete possa giovare ai propri affari. Ancora oggi 4 imprenditori su 10 pensano che internet non serva assolutamente alla loro impresa, non capendo che internet non è semplicemente uno strumento attraverso il quale l'impresa può vendere, ma è uno strumento che può permeare e rivoluzionare il business aziendale, dunque è uno strumento attraverso il quale l'impresa può rendersi visibile, può farsi conoscere anche ai clienti più lontani nel mondo e può attraverso una maggiore visibilità dare anche a una risposta crescente di Made in Italy nel mondo. Più 22% delle ricerche di prodotti del Made in Italy dal 2011 al 2014 dimostrano che c'è tanta domanda di produzioni di Italia all'estero che le nostre imprese grazie al digitale possono provare a sfruttare sempre di più.